Fiorentina I nostri titoli grazie alla regia di Leonardo Aloe e di Massimo Brigato verso il Milan sottile titolare chance per Barak dal primo minuto dopo il gol in nazionale potrebbe essere questo lo scenario ma ne parleremo con il nostro ospite Un calendario complicato e decisivo inizia la missione quella annunciata da Biraghi nel post di commiato per il direttore generale della Fiorentina Gio Barone e che vuole riportare un trofeo a Firenze che manca ormai dal 2001 Suggestione Zaniolo, ne pare il Corriere dello Sport svelando anche un retroscena, ossia quello che vedeva Gio Barone incontrare la gente qualche tempo fa quindi analizzeremo anche questa eventuale condizione Da Napoli nel frattempo insistano a più riprese Italiano è in pole position ma alla fine potrebbe anche restare a Firenze e quindi vedremo Radiomercato che cosa ci dice anche in questi giorni Dodò nel frattempo è ufficialmente tornato un piacevole problema, quello dell'abbondanza sul terzino destro che la Fiorentina schiererà in campo Di tutto questo parleremo con Giacomo Guerrini Ciao Giacomo, buonasera, grazie di essere con noi Ciao a tutti, buonasera Finalmente si torna in campo nel sabato pasquale alle ore 20.45 contro il Milan ovviamente dalle 20.15 qua sotto Scala TV con la tua conduzione e ci sono le prime indicazioni di formazione con Sottile che dovrebbe essere titolare sull'out di sinistra in attacco mentre c'è il ballottaggio aperto sulla tre quarti ricordando la squalifica per Giacomo Aventura tra Barak e Beltran con l'argentino che potrebbe anche giocare prima punta con Belotti in panchina tu come la vedi? Io penso che Belotti giocherà perché pur avendo fatto solo un gol comunque con Belotti in attacco è cambiato il gioco della Fiorentina quindi a mio avviso giocherà Belotti che tra l'altro non ha avuto impegni con le nazionali credo che giocherà a Sottile perché a sinistra hanno fatto bene negli ultimi tempi e c'è da capire come Beltran tornerà dall'argentina perché Beltran in quel ruolo lì aveva fatto molto bene insieme a Belotti credo che a destra non giocherà a Gonzales che ancora deve rientrare se non ho capito male e che quindi lì probabilmente potrebbe esserci una chance pericone è anche vero che Barak ha fatto molto bene nelle ultime uscite e quindi diciamo che pur nelle difficoltà l'italiano ha diverse soluzioni secondo me alla fine giocherà Barak al posto di Buonaventura giocheranno Icones e Sottile vedremo e Belotti e Belotti esatto vedremo quello che sceglierà il tecnico Vincenzi italiano a proposito di nazionale Nico Gonzales nella notte si è mangiato un gol praticamente già fatto dopo aver fatto lo scambio l'ho visto però non è che si era proprio mangiato lui aveva scavalcato il portiere la palla stava entrando in rete se quello ho visto io e sulla riga di porta è arrivato dal dia che un difensore lui l'aveva visto e l'ha tolta dalla porta non è che l'aveva sparata alle stelle se non sbaglio l'argentina stava anche vincendo 3 a 1 con margine e quindi lui aveva scavalcato il portiere la palla stava andando in rete non si è accorto che un difensore alle spalle stava arrivando per liberare è vero è andata così e Barak invece in gol con la Repubblica Ceca direttamente su punizione ecco perché oltre sulla tre quarti magari c'è alcune scuole di pensiero che invece dicono che lo potrebbero vedere anche in un centrocampo a due è una soluzione che eventualmente ti piacerebbe a te? beh io allora il Milan è sicuramente una squadra molto forte ed è un avversario pericoloso non a caso è secondo in classifica la Frentina non può compiere passi falsi e credo che Barak al posto di Buonaventura garantisca maggiore equilibrio una partita in cui la Frentina dovrà evidentemente faticare per contenere i rossoneri per questo mi immagino che Barak possa giocare lì con Duncan e Arthur nel loro ruolo e con gli altri e ti ho detto io la vedo così poi magari appunto non vedendo gli allenamenti non essendo la testa italiano magari andrà tutto in un altro modo però Barak ha sempre giocato o lì o in un centrocampo a tre la Frentina con centrocampo a tre non ci ha giocato una vita per cui secondo me Barak giocherà al posto di Buonaventura anche perché è in grande forma è in fiducia ha fatto dei coni importanti quindi il calendario perché è giusto diciamo ricontestualizzare anche l'agenda degli appuntamenti della Fiorentina soprattutto per via di questa missione dichiarata da Cristiano Biraghi che è giusto tenere bene a mente si riparte da sabato contro il Milan poi l'Atalanta nella semifinale è l'andata di Coppa Italia la Juventus a Torino il prossimo 7 di aprile alle 20.45 e l'andata contro le Vittoria Pelsen in Conference League insomma oltre alla gara contro il Milan sarà un aprile veramente decisivo per questa stagione sarà un aprile decisivo come in tutte le stagioni quando le squadre sono ancora in gioco in ballo per qualcosa per fortuna anche quest'anno la Fiorentina ad aprile è ancora in corsa per degli obiettivi importanti è vero che sono partite decisive è vero che sono partite che sono partite complicate ma è altrettanto vero che ad esempio in campionato anche le altre competitors diciamo così della Fiorentina non avranno partite facili perché un campionato come quello che stiamo vivendo dove sostanzialmente sono assegnati il primo e l'ultimo posto e basta è un campionato che di domenica in domenica non prevede scontri facili perché o sono scontri diretti oppure sono scontri tra squadre che appiscono all'Europa e squadre che non vogliono retrocedere e quindi non ci sarà nessuno che avrà una partita facile mentre gli altri ce l'hanno difficile quindi ora non ce l'ho il calendario sotto mano ma sicuramente mentre la Fiorentina affronta il Milan le altre avranno o scontri diretti o partite complesse perché ad esempio giocare a Verona adesso diventa molto difficile affrontare l'Udinese è comunque un impegno complesso così come l'Empoli così come il Cagliari quindi o sono scontri diretti o sono partite difficili per questo io penso che la Fiorentina ha già un precedente è quello dello scorso anno quando nell'ultima fase di campionato pensando a se stesse raggranellando punti dopo punti riuscì a risalire un sacco di posizioni arrivare a ottava che non è sicuramente un posto che scatena le fantasie e fa partire Caroselli ma che però alla fine è servito per giocare ancora in Europa quindi la Fiorentina deve fare le sue partite non abbattersi in caso di frenate e non esaltarsi in caso di accelerate alla fine vedremo ne abbiamo parlato ieri anche con Dario Baldi perché diciamo anche lui era sul no andante e se ben mi ricordo anche tu eri di questo avviso il riferimento è ovviamente a Nicolo Zaniolo che ha parlato in settimana e notizia riportata dal Corriere dello Sport Stadio è quella che insomma Gio Barone aveva incontrato la gente per cercare di riportarlo in Italia e nella fattispecie ovviamente alla Fiorentina eccolo qua con la maglia della nazionale allora diciamoci anche da spiegare un po' la sua situazione perché lui attualmente è in forza alla Stonevilla in prestito con diritto di riscatto intorno ai 25-26 milioni una cifra di questo genere prestito oneroso si intende quindi la Fiorentina se volesse riportare il giocatore in Italia dovrebbe per prima istanza parlare con il Galatasaray e poi ovviamente insomma cercare di trovare un accordo con la formazione turca Zaniolo percepisce 4 milioni di euro annui e vorrebbe tornare in Italia Fiorentina e Milan secondo radiomercato alla finestra a te piacerebbe un giocatore come Nicolo Zaniolo? allora intanto diciamo che leggendo il cuore dello sport oggi si legge che Zaniolo come dire sarebbe stata un'opzione in caso di cessione di Nico Gonzales e se io devo scegliere tra Nico Gonzales e Zaniolo tengo Nico Gonzales adesso è tutta la vita quindi questo è il primo punto e se Zaniolo dovesse arrivare senza la partenza di Nico Gonzales potremmo ragionarne ti rendo presente che però Zaniolo rischia di essere un mini Balotelli perché questo è un calciatore che aveva le stimmate del predestinato era stato convocato in nazionale dal Mancini prima ancora di esordire in Serie A ha fatto vedere le cose meravigliose alla Roma ma se poi adesso andiamo a vedere come dire lo storico di Zaniolo guarda ce l'ho sotto gli occhi dal 2018 al 2023 alla Roma ha fatto 94 partite e 13 gol che vuol dire un gol ogni 8 partite Alcaldasai ha giocato 10 partite ha fatto 5 reti e all'Aston Villa ha fatto 20 presenze e 2 gol questo cosa significa? significa che Zaniolo ha tradito le attese dell'esordio e le ha tradite ripetutamente è chiaro che il talento del calciatore non si discute però ormai è un giocatore a 25 anni non è vecchio ma non è più un ragazzino certo se tornasse in Italia con l'idea di mettere la testa a posto di fare il professionista di non fare il fenomeno e di dimostrare a tutti il suo talento sarebbe un grande acquisto viceversa dovesse tornare in Italia con la pancia piena perché gli ingaggi comunque sono alti perché è garantito e perché pensa essere un fenomeno paradossalmente potrebbe essere una bomba atomica in uno spogliatoio in un gruppo che invece mi sembrano abbiamo fatto la coesione dell'unità di intenti la loro arma punto di forza insomma è così è così ma un altro piccolo diciamo tassello ora ovviamente facciamo tutte ipotesi perché di questo parliamo anche perché siamo ancora alla fine di marzo parlare di mercato è sicuramente prematuro seppur sia sempre un argomento di ampio interesse e se invece restasse Nico Gonzales e allora la fredentina facesse uno sforzo economico e prendesse Zaniolo è un upgrade oppure no? te l'ho detto allora intanto allora così giusto per fare i balocchi certo la Stoneville ha il diritto di riscatto a 25 milioni che non eserciterà il che significa il valore di Zaniolo è inferiore a 25 milioni e già questo dovrebbe dire qualcosa a Zaniolo perché qualche anno fa Zaniolo sarebbe stato un crack di mercato è chiaro che probabilmente una squadra italiana lo vuole riportare non lo so con 15 milioni con un prestito importante un diritto di riscatto lo può riportare il suo ingaggio è importante ma un ingaggio che volendo può essere può essere spalmato può essere condiviso quindi ci sono le prospettive per riportarlo in Italia Zaniolo è un calciatore che in attacco può giocare esterno può giocare accanto alla punta può giocare dietro la punta è un giocatore di talento di talento assoluto quindi non si discute il tema è come viene e come si inserisce in un gruppo come potrebbe essere quello della Ferentina è un grande punto interrogativo certo se si trasformasse in un punto esclamativo sarebbe immediatamente un valore aggiunto per una squadra come la Ferentina detto questo appunto è molto presto perché c'è da capire chi allenerà la Ferentina il prossimo anno quali competizioni farà la Ferentina il prossimo anno con quali ambizioni Zaniolo è un giocatore di gira alla nazionale è un giocatore giovane è un giocatore forte però le perplessità sono di un calciatore che da Roma avrebbe potuto non ti dico ambire al Real Madrid ma quasi e poi si ritrova al Galatasaray scartato al Galatasaray alla Stonvilla e scartato alla Stonvilla insomma quindi probabilmente anche problemino c'è sicuramente sì chiudiamo l'argomento radiomercato passando anche per quello del tecnico che ormai è ricorrente da inizio della stagione e da Napoli sembrano insistere soprattutto le radio locali anche le cronache di carta stampata italiana in pole position per il dopo ciccio calzona ma alla fine potrebbe anche restare a Firenze e lo ha rivelato la nazione nelle settimane scorse nella versione di Angelo Giorgetti però insomma la sensazione è che anche dopo purtroppo la scomparsa di Giovarone potrebbe davvero cambiare cambiare tutto fondamentalmente quali sono le tue sensazioni a Napoli a Napoli hanno più ragione di parlare di mercato che a Firenze perché la loro stagione è stata ampiamente fallimentare non sono più in Europa non sono più in Coppa Italia devono cercare di agganciare un treno per la Champions che per una squadra che porta articolore sul petto è un obiettivo minimo ma non è scontato e quindi è chiaro che a Napoli si pensa alla prossima stagione la rifondazione dopo Garzia dopo Mazzari dopo Calzone è chiaro che pensano all'allenatore all'allenatore del prossimo anno si legge di Conte che è un profilo completamente diverso da quello di Vincenzo Italiano sappiamo che Vincenzo Italiano piace molto a De Laurentiis e lo sappiamo perché De Laurentiis aveva detto lo scorso anno che se avesse avuto il via libera da commesso avrebbe portato l'italiano a Napoli l'ha detto De Laurentiis non so se era strategia però l'ha detto e quindi è chiaro a Napoli l'italiano può piacere del resto a Firenze ha fatto un buon lavoro detto questo l'italiano in questo momento è l'allenatore della Firenze che ha un obiettivo vincere un trofeo è chiaro che qualora l'italiano dovesse vincere un trofeo che resta a fare alla Fiorentina cioè o la Fiorentina fa un passo avanti e costruisce una squadra non dico per vincere il campionato ma per stare davvero nelle prime quattro o l'italiano rischia già adesso come dire è vittima di qualche mugugno rischia il prossimo anno di essere portato via insomma potrebbe fare la scelta a fare palletti a Napoli vinto il campionato aveva un presidente che era la Champions League sa che a Napoli la Champions League non la vince e viene via da vincitore io ho come la sensazione che il ciclo d'italiano per un verso o per un altro vada a concludersi o perché lo concluderà con una vittoria o perché lo concluderà con la Fiorentina magari fuori dall'Europa o nuovamente in conference cioè ha compiuto la sua missione sostanzialmente italiana ha preso una squadra prostrata delusa un ambiente come dire sui gomiti e ha riportato la Fiorentina per tre anni consecutivi a lottare per l'Europa l'ha portata per tre anni di fila in semifinale Coppa Italia un anno ha fatto anche la finale quest'anno vediamo ha fatto una finale in Europa ci ha fatto divertire abbiamo vinto con il Milan abbiamo vinto con l'Inter abbiamo vinto con la Roma abbiamo vinto con la Juve con la Lazio con una squadra con cui magari non si vinceva da tanto tempo per cui il suo l'ha fatto in più c'è un altro elemento che mentre lo scorso anno le panchine Serie A erano di granito dalla prima all'ottava posizione quest'anno cambiano tutte perché Allegri sulla panchina della Juve forse c'è forse non c'è resta Inzaghi all'Inter Dioli a Milan traballa ora la Roma pare si sia sistemata con De Rossi e la Lazio si sia sistemata con Tudor a Napoli cambiano quindi insomma a Genova sta facendo molto bene il girardino e potrebbe andare c'è Bologna insomma quindi più c'è tutta la rumba del mercato estero quindi è chiaro che in un giro di waltzer come questo l'italiano ci sta bene c'è da dire che se non ho capito male c'è una clausola nel suo contratto che qualora la Fiorentina dovesse qualificarsi per l'Europa League se non sbaglio la Fiorentina può unilateralmente prolungare il contratto di un altro anno italiano quindi la situazione per usare un termine va molto di moda è fluida però non mi sembra in questo momento il tema ecco il tema è che è una squadra che si è messa appena alle spalle una tragedia e che punta a portare a Firenze come ricordavi giustamente un trofeo che manca da 23 anni esatto è così sarà purtroppo diciamo un tormentone quello di di Vincenzo Italiano che andrà come dicevi te a comporre un domino che inizierà con con la fine del campionato insomma varie panchine sono in birico e è coinvolta anche quella della Fiorentina torniamo sul campo perché è una bellissima notizia quella di Dodò l'abbiamo diciamo celebrata con un bel bentornato l'hai fatto soprattutto tu nella tua trasmissione del lunedì eccolo qua il cartello dedicato al terzino destro brasiliano classe 98 è ufficialmente tornato e allora vediamo una scheda per contestualizzare anche questo momento perché c'è un piacevole problema il problema abbondanza e adesso che succede allora intanto Dodò ha giocato 19 minuti contro il Maccabi Haifa e si candida al ballottaggio dunque con Caiode e Faraoni per una maglia da titolare il problema d'abbondanza come sarà gestito da Vincenzo Italiano fermo restando che insomma il terzino destro a Firenze prima mancava da tanti anni e che invece adesso addirittura si ha tre persone per un ruolo solo beh allora intanto cerchiamo di essere ottimisti alla Firenze mancano dieci partite di campionato e se dovessero andare bene cinque di conference e tre di Coppa Italia sono 18 partite da giocare in poco più di due mesi quindi insomma ci sarà bisogno di tutti per usare una frase fatta io non credo che Dodò vi piacerebbe vederlo giocare dal primo minuto però è un calciatore che è così tanto da così tanto tempo fuori dal calcio giocato e che ha fatto un quarto d'ora con il Maccabi Haifa secondo me difficilmente partireà titolare una partita difficile come quella con il Milan che succede? succede che Dodò è il titolare e che gli altri due sono le alternative con Faroni che se non sbaglio può giocare anche in altri ruoli mi pare anche a sinistra dove però Biraghi mi pare inamovibile succede che la Fiorentina recupera quello che è il titolare e che era uno delle pedine più forti della formazione quindi succede che è una buona notizia probabilmente in sedio di mercato la Fiorentina deciderà se non lo so restituire Faraoni che è in prestito oppure mandare a giocare caiole o magari accettare un'offertona per Dodò ma sicuramente non è un problema in questo momento è un'opportunità secondo me Giacomo facciamo un gioco come diceva un po' l'esorcista nel film ora anche qua è chiaramente un'ipotesi molto molto fantasiosa non basata su notizie ma se alla Fiorentina arrivasse un'offertona da 30 milioni per caiole e si ritrovasse diciamo nella condizione di dover scegliere se cedere caiole per 30 milioni tenere Dodò e confermare Faraoni oppure magari vendere Dodò per un'ipotesi diciamo di 15 milioni più bonus 17-18 milioni il direttore sportivo Guerrini che farebbe? intanto il direttore sportivo Guerrini siccome è tifoso della Fiorentina non venderebbe caiole perché il mio sogno è vedere una squadra per gran parte formata dalle giovanili della Fiorentina e allora c'è caiole c'è Comuzzo c'è Ranieri potrebbe rientrare Lucchesi potrebbe rientrare Bianco in questo momento c'è Sottil che forse ha trovato una sua dimensione e magari mi dimentico qualcuno quindi caiole io lo terrei anche perché è un giocatore italiano pensiamo anche a una difesa e ne so una difesa del futuro caiole Lucchesi c'è una difesa tutta italiana e tutta made in Florence quindi lo terrei anche per questo motivo io dovrei vedere anche cosa fa la Fiorentina il prossimo anno e con quali ambizioni perché se la Fiorentina per caso il prossimo anno dovesse fare l'Europa League o avesse ambizioni di entrare nelle prime quattro terrei caiole e dodò perché adesso avrei due giocatori molto forti tra l'altro ricordiamoci che generalmente i giovani dopo l'anno dell'esplosione hanno un periodo di assestamento e quindi avere la garanzia ad un giocatore di esperienza forte che sta volentieri a Firenze come dodò perché ricordiamolo dodò ha detto questa è casa mia è la mia famiglia non sono mai stato così bene ecco visto che come ci ha sempre ricordato commisso i soldi non sono un problema ecco calciatori del genere li terrei perché fanno bene in campo e fanno bene al gruppo quindi terrei sia caiole che dodò tu pensi possa essere già coinvolto con uno spezzone importante nella gara contro il Milan io mi auguro mi auguro di sì nel senso e mi auguro che la partita sia messa talmente bene che possa giocare dodò per acquisire minutaggio però credo che la partita con il Milan sarà una battaglia e quindi magari se dodò dovesse entrare entrerà a fatitare io mi auguro mi auguro di vedere dodò in campo presto di vederlo nei suoi scienzi ma credo che la partita con il Milan non sia la partita ideale per rivedere dodò dall'inizio o giocarsi in uno spezzone di gara diciamo così in maniera tranquilla nel frattempo ti faccio vedere anche la disegnazione arbitrale che è emersa per quanto riguarda Fiorentina Milan arbitrerà il signor Maresca della sezione di Napoli al bar ci sarà Di Paolo insomma Maresca ha fatto una buona stagione quest'anno ed è un match che viene considerato di cartello disegnazione che ti soddisfa non ti soddisfa ma ti confesso io gli arbitri non li conosco cioè non li guardo non li conosco poi guardo la partita e di volta in volta decido se mi dovessi chiedere una partita arbitrata Maresca non te lo saprei dire non so se questo è un bene o un male ma neanche gli altri sinceramente poi quando guardo la partita posso come dire approvare o non approvare l'arbitraggio devo dire ecco ne parlavo insomma in questi giorni con un mio amico non mi sembra da quando c'è la presidenza commissa la Fiorentina abbia avuto molto da lamentarsi degli arbitraggi sicuramente saranno stati gli arbitraggi che non ci sono piaciuti però non mi sembra di aver visto cose clamorose contro la Fiorentina degli ultimi tempi neanche a favore insomma mi sembra che la Fiorentina abbia avuto arbitraggi sostanzialmente equanimi speriamo che non accada ovviamente contro il Milan l'unica che viene in mente così a memoria in Conference League il gol di Cabrao te lo ricorderai che il pallone aveva varcato ma lì la scarsezza dell'arbitro non è che c'era cattiveria abbiamo visto per la prima volta l'arbitro cambiare una decisione del VAR ecco però diciamo sostanzialmente non abbiamo visto cose clamorose abbiamo visto per esempio la partita dello scorso anno la Fiorentina per Santorino annullare un gol per un centimetro alla Juve un gol che avrebbe chiuso la partita e poi ahimè vedere anche annullare per lo stesso centimetro il gol che avrebbe consentito la Fiorentina di pareggiare all'ultimo secondo per cui insomma diciamo che sostanzialmente ultimamente non avrei da lamentarmi degli arbitraggi Da eterno romantico del calcio se ci fosse una regola del calcio da cambiare e tu quale cambieresti? Le cinque sostituzioni perché le cinque sostituzioni di fatto hanno cambiato completamente il calcio e hanno favorito ancora di più le grandi squadre che possono permettersi intanto con cinque cambi di cambiare sostanzialmente mezza squadra e chi ha i soldi e i mezzi può mettere cinque campioni mentre chi non li ha ti deve arrangiare e poi perché questa cosa qua permette con sedici giocatori che scendono in campo alle grandi squadre che investono su tanti calciatori di non doversi confrontare con quel malumore e quel malcontento che invece tante volte le ha portate via perché c'erano dei grandi calciatori che non giocavano adesso con cinque cambi per un male provano il modo di far giocare tutti e questo sostanzialmente è come dire un ulteriore vantaggio che va ad aiutare più forte in chiusura voglio coinvolgerti sulla notizia di fatto di ieri sulla soluzione del difensore dell'Inter a Cerbi che secondo Juan Jesus aveva usato un epiteto razzista notizia di oggi che il Napoli con rabbia e delusione ha annunciato che sulla topa della maglia come ben sai c'è scritto il no to racism non indosserà la topa durante la prossima partita di campionato e addirittura Juan Jesus valuta la denuncia penale non lo so dimmi la tua è una situazione abbastanza strana perché io culturalmente sono un garantista per cui se non ci sono delle prove e se una persona è condannata per me è innocente quindi evidentemente non c'è un labiale non ci sono delle immagini che mostrano a Cerbi dire quella frase a Juan Jesus però il comportamento successivo di Juan Jesus e di Cerbi in campo farebbe pensare che Cerbi avesse detto quelle parole e si fosse immediatamente scusato dopodiché il problema secondo me è avvenuto quando successivamente a freddo Cerbi avrebbe cambiato la sua versione dicendo ti ho fatto nero e ti faccio nero e non quindi è una situazione molto complessa dove secondo me il calcio non ne esce affatto bene però è di difficile interpretazione perché non mi sembra che ci siano delle prove che inchiodino a Cerbi a me sembra che a Cerbi ha fatto un po' figuruccia perché in campo da quello che ho visto alle immagini si scusa con Juan Jesus dicendo guarda gioco anche con compagni di colore quindi non è un problema segno evidente che probabilmente ha detto qualcosa sul colore della pelle e poi dopo avrebbe cambiato versione quindi mi sembra sostanzialmente che ci sia molto da fare per quanto riguarda il razzismo nel mondo del calcio e anche tra i calciatori sostanzialmente dopodiché qui in questo momento se non ho capito male abbiamo la parola di Juan Jesus contro quella da Cerbi e fino a prova contraria non basta che uno accusi una persona che ha fatto una cosa ma deve anche dimostrare che sia stata fatta effettivamente se no ogni domenica qualcuno potrebbe accusare uno da aver detto una cosa piuttosto piuttosto che un'altra mi sembra mi sembra appunto che che se ne sia usciti veramente male ecco perché siamo partiti da dire dieci giornate di squalifica non gioca in nazionale è successa una cosa amorosa chiudendo con se è scherzato probabilmente ci sarebbe voluto un approccio diverso e forse lo stesso a Cerbi avrebbe dovuto come dire chiarire diversamente questa situazione allora grazie davvero all'opinione di Giacomo Guerrini e ci vediamo sabato con te sugli schermi di Toscana TV grazie a te buona serata a tutti Casa Viola termina dunque qui ci vediamo domani ore 21 per continuare a commentare l'avvicinamento alla gara del sabato pasquale tra Fiorentina e Milan lo ricordiamo in programma alle 20.45 sabato alla Franche di Firenze dalle 20.15 su Toscana TV buonanotte